40 chili di botti sequestrati ad Acate, 20 chili scovati a pedalino. Alla vigilia del nuovo anno i carabinieri hanno intensificato i controlli del territorio ed i risultati si sono visti. Ad Acate i militari della stazione guidati dal maresciallo Silvestro di Giorgio hanno sorpreso un marocchino di 25 anni che vendeva dei fuochi pirotecnici abusivi e confezionati in modo artigianale, ovviamente senza la marcatura CE, in piazza San Giovanni, a due passi dal castello di Biscari. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Denunciato anche un 44enne catanese che i carabinieri di Comiso hanno trovato in possesso di 20 chili di materiale esplodente senza la prevista licenza prefettizia. I botti, in questo caso, sono stati trovati nella casa di via Medusa a pedalino. Sempre nell'ultimo giorno dell'anno la pattuglia dei militari ha fermato un furgone condotto da un venditore ambulante di Vittoria, pregiudicato. Nel furgone c'erano 1800 chili di arance in tutto 91 casse. Quando i carabinieri hanno chiesto da dove provenisse la merce, l'uomo non ha saputo dare spiegazioni. Si è scoperto poi che era stata rubata poco prima in un agrumeto di contrada mortilla tra Comiso e Chiaramonte. Le arance sono state restituite al proprietario, l'ambulante, che a 33 anni è stato denunciato a piede libero. Dovrà rispondere di furto.